Forma Terziario, l'ente formativo per lo sviluppo delle competenze del terziario che fa riferimento a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha festeggiato il suo quarantesimo anniversario. L'evento Interpretare il futuro, aperto dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e con gli interventi di Andrea Colzani, presidente di Forma Terziario, Thomas Bialas, futurologo, giornalista, esperto di innovazione, ed Alessandro Lucchini, linguista e formatore nella comunicazione. La formazione è l'energia che sostiene e alimenta l'economia e i primi quarant'anni di Forma Terziario sono stati straordinari per valorizzare il terziario. Forma Terziario è diventato uno dei poli formativi più importanti d'Italia. Festeggiamo i nostri primi quarant'anni come Forma Terziario, è un festeggiamento importante perché qui vengono coltivate le competenze di chi è nel mondo del lavoro, un mercato delle competenze che è in continuo e costante cambiamento e quindi è importante anche guardare al futuro dei prossimi quarant'anni, continuando a migliorarci e a studiare per poter offrire anche un contesto sempre più efficace per le nostre imprese e per le nostre persone. Forma Terziario opera in più ambiti, formazione continua, formazione abilitante permanente, formazione post diploma, università e ricerca. In 40 anni 2 milioni le ore di formazione erogate. Oggi ci sono sempre più servizi alle imprese, il mondo del servizio alle persone, l'intelligenza artificiale, il mondo degli ESG, insomma una continua evoluzione nelle necessità delle imprese e di conseguenza anche un cambiamento nostro nel seguirla.